Ah 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 Roberto Giacobbo da sempre legato all'Abruzzo e alla città dell'Aquila in modo particolare noi da abruzzesi non possiamo far altro che ringraziarla per aver dato questo spazio gigantesco su una rete nazionale all'Abruzzo e ha dei posti davvero straordinari. Vede Roberta, l'Abruzzo, io non sono nato in Abruzzo, però l'ho scelto e lo amo per mia scelta e quindi questa è una cosa importante. Lo abbiamo raccontato proprio perché fa parte di un progetto che a me piace portare avanti. Io credo che un luogo che ha subito tanto dolore, tanta sofferenza debba rivivere e rinascere dalle notizie positive. Perché di notizie negative da qua ne sono arrivate troppe, basta così. Allora però come sapete una notizia positiva per diventare notizia richiede molto più lavoro di una notizia negativa. E allora visto che l'Abruzzo ha tanta storia, ha tanti luoghi, ha tante persone eccezionali, ho deciso di raccontarle. Le racconterò insieme, abbiamo detto in cinque puntate ci saranno servizi e reportage sull'Abruzzo raccontando la storia dell'Abruzzo e per di più ci sarà una bellissima storia sugli Eremiti e su Celestino V nelle prime due puntate addirittura. In questa lunga serie le prime due puntate vedranno due parentesi e tra l'altro una parentesi così importante, così grande, che sarà a puntate. Prima parte in una puntata, seconda parte in un'altra, con luoghi veramente unici. Le immagini che vedete qui dietro, vedete c'è il nostro track che è venuto in questi luoghi sugli Eremi, abbiamo parlato però anche nel centro storico dell'Aquila. Insomma abbiamo raccontato, è bastato raccontare le cose belle che ci sono e le buone notizie hanno cominciato a camminare da sole. Quindi avere il coraggio di... non si può sperare nel futuro parlandone solo male, no? Parlando male del presente. E allora rimbocchiamoci le maniche perché poi alla fine qualcuno deve parlare bene di questi luoghi, fare in modo che questi luoghi tornino all'attenzione del paese per le loro bellezze, non per le loro tragedie, che sono state raccontate bene, benissimo, e non si devono dimenticare, è fondamentale. Però dobbiamo anche raccontare il resto. L'appuntamento per gli italiani interi, ma soprattutto per gli abruzzesi e gli aquilani che vorranno seguirla? Allora, la prima parte di Celestino e degli Eremiti è andata in una puntata del 22, nella seconda parte del programma. E subito dopo, nella puntata del 29, ci sarà il proseguimento di questo servizio e poi altri tre servizi dopo. E poi chissà, tante cose che faremo. Sindaco Biondi, abbiamo appena assistito a una presentazione di un quasi commosso Roberto Giacobbo delle immagini che ha girato, soprattutto qui all'Aquila, ma con un headquarter tutto abruzzese, insomma. Sì, l'Aquila e il suo territorio si fanno protagonisti in l'Abruzzo, in cinque delle otto puntate di Freedom. Si parlerà di Celestino V, si parlerà di Galascio, si parlerà del decennale del terremoto. Giacobbo è un testimonial straordinario per la sua esperienza, per la sua fisicità, per la sua riconoscibilità televisiva e come personaggio proprio della divulgazione. E noi siamo contenti di poter raccontare ancora una volta una l'Aquila diversa rispetto a come qualcuno l'ha voluta a narrare, una l'Aquila bella, una l'Aquila che sta rinascendo, una l'Aquila che venerdì scorso ha potuto accogliere la carovana rosa vestendosi con i suoi colori migliori. E' un lavoro importante che noi facciamo per promuovere l'immagine di questa città dopo il sisma del 2009. E tu che sei un esperto di comunicazione sai quello che significhi l'introduzione appunto di Roberto Giacobbo. Ha detto, cari colleghi, la parte più difficile aspetta a voi di tramutare in una notizia una cosa positiva che normalmente non fa notizia. Sì, le buone notizie in genere non fanno notizia, o le cose fanno notizia, le cose naturali non fanno notizia. Come si suol dire un uomo che morde un cane fa più notizia di un cane che morde un uomo. Vediamo i risultati però di questa attività che stiamo facendo e vediamo soprattutto come l'Aquila comincia a riempirsi di turisti. Abbiamo i dati del 2018 che già segnano un più 20% rispetto al 2017. Di presenze? Di presenze, sì. Nelle strutture alberghiere, senza contare l'extralberghiere e B&B. E sono convinto che il 2019 farà segnare un risultato ancora più ampio perché da quello che mi dicono gli albergatori c'è un sold out praticamente da tempo, da settimane. Dopo un gennaio, un febbraio, un po' così perché naturalmente sono mesi più freddi e più complicati dove però ci sono stati risultati importanti sul Gran Sasso, oggi li contiamo anche sulla città dell'Aquila. Ah, 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 ah Uh, 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 uh Grazie a tutti.